Sicuramente la prima amica ora è stata più impegnativa per il fatto che la squadra avversaria era più forte della seconda, a livello anche di fisicità in generale, ci ha messo qualche difficoltà in più. Mi aspettava anche la mia squadra un pochino stanca, un po' imballata per il fatto del lavoro che abbiamo fatto in questi giorni. Erano un po' carichi, però alla fine nel secondo tempo sono uscito da distanza e hanno anche espresso delle ottime manovre. Nella seconda partita c'erano anche più giovani in campo, maggiore esuberanza, la voglia di osare qualcosina in più e mi è piaciuto. Mi è piaciuto veramente tanto perché hanno ricercato tante situazioni interessanti e si sono anche divertiti a giocarla. Osare è fondamentale per poter divertire, divertirsi e allo stesso tempo andare a cercare certe giocate che fanno male agli avversari. Giocare sempre in orizzontale, cercare poco la verticalità è un gioco che a me non piace tanto, per quello cerco di trasmettere questo pensiero e per poterlo fare bisogna riscare qualcosa in più. I nuovi arrivati si stanno veramente inserendo bene nel gruppo, sono ragazzi prima di tutto di grande disponibilità e questo è un aspetto positivo, ma credo che tutto ciò sia facilitato sia dal lavoro dello staff ma anche dai ragazzi che c'erano già in precedenza.